Un saluto ben ritrovati come state, mando un abbraccio a tutti in una giornata di festa ma di tristezza per la scomparsa appunto di Gianluca Viaglia al quale abbiamo dedicato prima anche un ricordo e rinnoviamo ovviamente l'abbraccio caloroso alla sua famiglia Vi ricordo come sempre di iscrivervi in questa zona, attivate la campanella sul logo di Milanello e partecipate con commenti in prima linea perché questa è una community, la principale community su Youtube di tifosi rossoneri e ne andiamo davvero orgogliosi, siamo 86.400, sarebbe bello insomma chiudere il mese con i 90.000 Vi chiedo troppo? Magari no, un piacere, uno sforzo a un fratello o a una sorella rossonera li chiedo, iscrivetevi qui mi raccomando Allora ci sono tante notizie, tanto fermento e ridendo e scherzando, oggi perché io in queste feste mi sono un po' perso coi giorni Mercoledì che giocavo al Milan mi sembrava domenica, oggi mi sembra martedì ma in realtà è venerdì Dopodomani gioca al Milan, quindi ci siamo, domani giornata di rifinitura, di vigilia e poi gioca ancora in campo il Milan alle ore 20.45 contro la Roma e se vinciamo quella è un altro bel segnale ma ne parleremo o ci penseremo? Tenetevi forte perché ci sono notizie importanti Iniziamo subito con il discorso, allora c'è un nome che torna ad attualità e io ho la sensazione, barra qualcosa di più, che il Milan stia guardando molto i parametri zero per la prossima estate Ci sono alcuni profili che il Milan sta seguendo con molta attenzione e in quel famoso incontro quando Maldini poi rinnova credo che abbia ottenuto comunque, non dico carta bianca, ma più libertà abbia snellito un po' la manovra, la catena dei comandi e delle scelte e quindi può cambiare magari anche qualcosina sui rinnovi e anche sul mercato Ora arriviamo appunto anche al discorso del nuovo obiettivo, vecchio obiettivo ritorno di fiamma o fiamma che non sia mai spenta Per l'estate partiamo però dalla notizia più calda sono ore caldissime e stanno per diventare bollenti perché settimana prossima la nostra anticipazione è stata confermata ci sarà l'incontro con l'enturazione di Rafa Leao Dovremmo essere in grado di indicarvi anche il giorno Che cosa è successo? Che nelle scorse ore è arrivato a Milano Antonio Leao che è il papà, che abbiamo visto una delle prime volte con la maglia rosso nera nei festeggiamenti post Scudetto post Sassuolo Milan, lui con la maglia del Milan così come tutta la famiglia Abbiamo visto quando c'è stato il Galà, premiato Rafa E poi è diventato protagonista anche mediatico di una trattativa che a oggi non si è ancora sbloccata Assisterà in tribuna a Milano e Roma E poi dovrebbe arrivare lunedì Ted di in Vula Dovrebbe tornare lunedì Ted di in Vula E dovrebbe essere lunedì il giorno dell'incontro Che potrebbe essere definitivo, decisivo, determinante sul futuro di Rafa Leao Quindi siamo finalmente al dentro o fuori Mi verrebbe da dire che siamo al dentro C'è davvero tanto ottimismo Milan e Leao non sono mai stati così vicini a rinnovare il loro contratto con la penna Non con la BIC come diceva Pirlo in quella famosa autobiografia Siamo davvero molto vicini L'ultima offerta del Milan è di 6 milioni e mezzo Più bonus che possono farlo arrivare a guadagnare quasi 8 milioni di euro Dai feedback che ha ricevuto il Milan C'è estrema fiducia che questa offerta verrà accettata Quindi lunedì potrebbe essere il giorno della tanto attesa fumata bianca con Rafa Leao Ovviamente di fronte a un giocatore così importante Bisogna avere prudenza Quindi non siamo qui con toni trionfali o trionfalistici Ma siamo molto fiduciosi perché ci arriva estrema fiducia Quindi sono ore determinanti Rafa ha confidato ai compagni di voler restare Dal Milan arriva fiducia Dall'entourage arriva estrema disponibilità Arrivare a un accordo già nei prossimi giorni Lunedì dovrebbe essere il giorno di questo tanto atteso incontro Con il Milan appunto E il Milan si aspetta che possa arrivare una fumata bianca O che possa essere l'ultimo incontro prima della fumata bianca 6 milioni e mezzo più 1 milione e 2, 1 milione e 3 Si può arrivare magari a un milione e mezzo Vanno definiti e modulati i veglio, i bonus Si arriverà quasi a 8 milioni di euro E rispetto a quello che Ipotizza qualcuno Non risulta essere un accordo ponte Iminan vuole rinnovare Rafa Leao Per farlo giocare con il Milan oggi Domani, dopodomani, la prossima stagione E anche quella dopo Poi il mercato è un continuo di venire Quello che accadrà non lo potremo sapere Ma nelle idee del Milan c'è quello di rinnovare Leao Per confermarlo, per farlo giocare con la maglia rossonera Speriamo con ancora lo scudetto, le due stelle Anche il prossimo anno E quindi tenetevi forte Perché potrebbe arrivare la tanto attesa Notizia Ed è questione di giorni E capiremo insieme se effettivamente questa fiducia Verrà tradotta in una firma Tutte le indicazioni, tutti gli indicatori Portano verso questa firma Milan e Leao mai così vicini E a me, semplicemente per dirvi questa cosa Batte ancora più forte il cuore E non oso immaginare l'entusiasmo Con cui potremmo commentare in un video Nei commenti qui sotto Quel rinnovo che tutti aspettiamo Che in tanti Magari credevano Potesse non arrivare mai E che invece sembra Possa arrivare già la prossima settimana Raffa Leao, giocatore fortissimo È il crack, il top player della Serie A 23 anni appena Quest'anno ha fatto già 7 gol e 5 assist In campionato un gol e 4 assist In totale in Champions In totale 8 gol e 10 assist E il meglio deve ancora venire Giocatore forte, forte, forte Che ha fatto due gol in qualche spezzone ai mondiali Ad appena 23 anni Dopodiché il mercato non finisce mai Siamo nel mercato di gennaio Ma è un mercato importante Perché tra meno di un mese I parametri zero possono firmare Ce ne sono alcuni Che il Milan sta seguendo con attenzione Risulta Un ritorno di fiamma Lo definirei così Con Evan Dicat 23 anni Difensore francese Dell'Eintracht francoforte Altun 92 Che il Milan ha trattato la scorsa estate Ma non si è trovato alla quadra Anche perché aveva valutato una quindicina di milioni di euro Giocatore che ha il contatto a scadenza Quindi il primo febbraio può firmare gratis per altri club Su di lui c'è stato un interessamento della Juve Che adesso però è affacendato in questioni diverse C'è anche il Barcellona Giocatore che con l'Eintracht ha 162 partite 10 gol e 10 assist Giocatore che quest'anno ha fatto 15 partite L'anno scorso 32 partite 4 gol e 4 assist in Bundesliga Ha anche il vizio del gol L'anno prima 3 gol e 1 assist L'anno prima 1 gol e 1 assist Piede Mancino Manca un Mancino nel parco difensori della C Milan Che cerca un difensore Anche perché purtroppo non si fida più tanto Delle condizioni di Kier Che spesso è fermo Che riduce un infortunio serio Che ha la sua età È un trentenne inoltrato Concedetemi l'espressione E quindi insomma vuole guardarsi attorno Se riuscisse a prendere in D.K Secondo me avremo un parco difensori Straordinario Molto ben assortito Lui è bravo nel gioco aereo Nella marcatura Bravo anche a impostare Con il piede Mancino È uno da cui ripartono spesso le azioni dell'Eintracht Che permetterebbe di fare anche benissimo La difesa 3 come braccetto di sinistra Ciao D.K Tomori Kalulu Con Kier Esperto Credo che insomma sarebbe Una signora difesa Non dimentico Gabbia Ma Gabbia a quel punto potrebbe andare a giocare altrove Per trovare più continuità di prestazione Perché vuole essere anche lui protagonista Ditemi che cosa ne pensate Ovviamente C'è concorrenza Ma c'è anche il Milan E a me questo è un giocatore che piace Da quando Da quando insomma lo seguiamo Ormai da diversi mesi Anche se poi Ha fatto partite anche non bellissime Magari distratto un po' dalla situazione Contrattore Però è un giocatore forte Interessante A parametro a zero Secondo me è un'occasione Se non chiede la luna C'è anche il decreto crescita Se non c'è un top club Che gli offre più soldi Il Milan è pronto E vigile A metterlo sotto contratto Vediamo che cosa succede Le prossime settimane Saranno decisive in questo senso Perché dal primo febbraio Può firmare gratis Per un altro club E al Milan piaceva molto Piace ancora Se ci sono le condizioni E un'operazione che si può fare Vi ricordo come sempre Di iscrivervi qui Se non l'avete ancora fatto Lasciate un bel like Tenetevi forte Perché potrebbe arrivare La notizia che aspettiamo tutti Con grande Grande Attesa Da tanto tempo Un abbraccio Forza Milan oggi più che mai Domani ancora di più E commentate qui sotto Ancora Un buon viaggio A Gianluca Un buon viaggio